Monticelli e San Maurese si sfidano allo storio del Duca per la diciassettesima giornata andata del Girone F di Serie D. Giornata dell'orgoglio bianca-azzurro per il sodalizio ascolano che fa sfilare tutte le formazioni giovanili davanti a un buon pubblico. Monticelli oggi in tenuta rossa con bande nere. In avvio c'è questo calcio di punizione di Jotti dalla sinistra. Scontro tremendo tra Passanti e Ciabuschi. Alla peggio il diciannovenne attaccante ex Primavera dell'Ascoli che viene soccorso dai sanitari e poi dovrà abbandonare la contesa. Al suo posto stallone schiera Aloisi. Cambio anche di modulo al 3-5-2 al 4-3. Qui ci prova Gesuè col destro dal limite para a terra Passanti. Sempre Gesuè allarga bene sulla sinistra per il nuovo entrato Aloisi che arriva in area di rigore. Lo scarico per Jannascoli che viene fermato dai difensori giallorossi. Alza i giri la squadra di Protti. Qui c'è colpo di testa al 34esimo di Enrico che si stampa sulla traversa sul prosieguo dell'azione. La sfera arriva a Bonandi che con questo tremendo sinistro gonfia la rete e porta in vantaggio i suoi. Gran gol del fantasista della Samoresi. Ancora lui in mezzo per Paganelli. Spizzata di poco a lato. Sempre Bonandi. Le sue finte. Arriva al limite dell'aria. Altro mancino potente. Marani alza il pallone sopra la traversa. È un monologo della Samoresi. Sempre con Bonandi. Il tocco per Paganelli col destro. Non riesce a centrare lo specchio della porta. Nella ripresa entra Leon Giovannini. Arrivato al Monticelli nel calcio mercato invernale dalla Civitanovese. Qui Yotti col Mancino di poco a lato. Lancio dalla retrovie di Sosi proprio per Giovannini che viene steso in aria da Gualandi. Calcio di rigore. Così decide l'arbitro. Sessa. Siamo al minuto 60. Sul dischetto va Bomber. Pedalino che con destro non sbaglia. Ottavo centro in campionato per lui. Festeggiato dai compagni. Si torna in parità. Uno a uno al Del Duca per un Monticelli che ora punta la vittoria. Ma la Samorese oggi è in gran forma. Esce Gesùè. Al suo posto entra Wadè. Altro ex Civitanovese. Scatenato sempre lui. Bonandi. Azione personale. Il tocco per Enrico che al minuto 76 riporta in vantaggio i Romagnoli. E ora è dura per il Monticelli. Iniziativa di Yotti. Parte questo tiro cross col Mancino che sfila poi sul fondo. Le proteste di Mister Stallone che viene allontanato nel finale dall'arbitro Sessa. Quattro minuti di recupero ma la squadra Ascolana non riuscirà a trovare il pareggio. Finisce quindi a quota 22 punti. Il girone d'andata comunque positivo per la squadra di Stallone. Grazie.